ma buon dia a tutti amici di doppia frizione oggi siamo con un'altra reaction un ciprocentino molto arrabbiato ma buon dia a tutti ma buon dia a tutti ok andremo a fare il mic ring e ovviamente le strade sono sempre chiuse e senza traffico non fate quello che facciamo noi come sempre questa macchina è totalmente originale giusto? giusto tra l'altro domani questa macchina deve andare in vendita quindi dovrebbe venire a prendere il padrone il nuovo padrone ma quanto poco luce fanno queste è peggio del mio 106 e ce ne vuole porca puttana ok non si vede assolutamente niente mica che skid porca puttana ok senti come cazzo crattano mi senti la puzza di benzina qui è andato giù uno va bene non è che eri tutti hanno tirato su con ok 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 madonna che puzza di madonna questa è questa è questa questa è una barra da morto altro che punto ct porca puttana ma no che puttana spandiamo un po i vetri perché non si vede niente ok Ok Porca proia Ok Va bene Il GoPro Provi c'è ancora Sì Porca proia Va bene Va bene Va bene Io sono sulla portiera Adesso non si vede E siamo su Mike Ring Ripeto Non c'è traffico E' una strada chiusa O almeno Magari troveremo altri concorrenti Probabilmente Che faranno Mike Ring Questa qui è andata Bruttissima curva sinistra Fortee Porco cazzo Ok Madono Madono in queste condizioni Con le foglie a destra Ok C'è un controsterzo Inimmaginabile Su questa macchina La prima Tu entri in questa 500 No? Devo aiutare anche Un bravo copilato Deve aiutare col tutto Cioè tu Tu entri in questa 500 E dici Puttaneva E' allargata E' abbassata Dovrebbe girare come un go-kart Gira come un sigla S15 Ok Adesso facciamo una pièce al contrario Visto che abbiamo trovato un po' di traffico Tanto è aperto in tutte e due le direzioni Porca Contrario No 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 Mike 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 Dio Ok Sottosterzo Sottosterzo Arriva gente al contrario Va bene Meno mai che te le racconti a memoria Perché Non si vede niente Cioè 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 Madò 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 Io mi Non so se State capendo La mia Porca Troia Ok Cioè Ti va di culo Che se Porco Non riesco a parlare Ragazzi Cioè Io vedo muri ovunque Anche se ce ne sono I Ok Qui qualcuno è andato giù Cioè Se dire che si muove E qui il cardone è andato giù Madò Ok Sottosterzo Mi 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 Si le cinture Mi dicono che funzionano bene Sono andato Per spannare un po' il vetro Mi sono ritrovato sul cruscotto Adesso funzionano Perché prima non funzionava Vabbè Voglio Eeeh Sì Fatti un intanto giro André Ah ecco Come spanartela A quello che verrà dopo Ah Gliela sporco Yes Yes Ingasso Porca Vado Vado Che cazzo è Carca puttena Dirmi che non ho un card Ho sentito Ho sentito Però credo che siano i Parascruzzi Parascruzzi Gli argamenti Il Mi Cacco Addosso Giornaviero Sotto Non so Addosso Sotto È Concluso È stata una bruttissima Esperienza Grazie Mike Per Eeeh La brutta Esperienza Vedi che adesso Si spanna Manneggiate L'ha fatto tutto Apposta Per 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 Le matonne E Ci vediamo In un prossimo Vido Ho paura C'è una macchina Che arriva in controvano Ok Bella Ci vediamo Fai bella Che faccio bella Bella